Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze, fino al 14 settembre, scambio di carreggiata tra Poggi Bonzi e Colle Valdelsa Sud in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena, chiusi per lavori, gli svincoli di Siena Nord e Acqua Calda. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale 3 Vis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Balsavignone e Canili in direzione Ravenna. A Firenze, fino a metà settembre, lavori di e-distribuzione in via Pisana nel tratto a cavallo del ponte sulla Greve. Buorsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!